mio padre non mi ha mai detto farebbe piacere che facessi questo io di mio volevo fare l'ingegnere come tutti hanno fatto la mia famiglia o o il medico medico mi attrezzava sta roba qua e invece mio padre mi ha fatto trovare io l'ho scoperto dopo a posteriori esaminando le situazioni mi faceva trovare sciolti a pacchetti in giro per casa lì i libretti delle accademie navale aeronautica esercito e finanza che facevano i concorsi per per le tratte in accademia e io non li sono mai filate perché non ho mai l'idea di diventare militare di andare di andare un'accademia mi è capitato perché aveva una certa tendenza ma così di pura simpatia un po per la marina perché era elegante aveva una bella nomea questo questo bastimento con le vele spiegate il vespucci aveva questo livorno che insomma era un po di nome e poi c'era l'aeronautica perché aveva gli aeroplani aveva le belle signore aveva questi qua un po scapestrati ma erano una cosa di pura superficie bene io me li mi capita in mano a questo dall'aeronautica e ti trovo che nel capitolo che non so ma come mai ci fosse quel capitolo del capitolo corredo corredo del allievo non lo so come scorro sta roba e ti vedo pantaloni da cavale rizzo ho detto cribbio qui c'è del buono se c'è danno i pantaloni cavali c'è poi anche il cavallo poi naturalmente ci sa che bella vita che fanno in aeronautica e ho detto bene vado in aeronautica no no sotto a verificare dalla marina sul libretto della marina se c'erano i pantaloni da cavale rizzo perché allora lì si la cosa era ancora dubbia la marina non aveva i pantaloni da cavale rizzo e quindi la mia scelta è stata definita per l'aeronautica è così che sono diventato un pilota pseudo poi il tempo dirà la sua avrebbe detto la sua e quindi ci sono ci sono andato stato chiamato la visita medica 2005 a 77 posti 2500 candidati venivano mandati la prima sfornata la facevano i medici di degli ospedali locali genovesi nel mio caso che l'esercito l'esercito l'aeronautica mi mandava lì con la lettera e questo cambio guardava guardavano come dovevano guardare non lo so e comunque mi ha fatto idonea quindi soltanto quel colore e sono passato a napoli al sud medico legale a fare la visita quella un po più accurata dell'aeronautica mi ha fatto idonea anche lì e entro tra questi per questo gruppo di 77 candidati a nisi da nisi da era un isoletta bellissima attaccata posillipo con un bel era 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 nel mare collegata a terra posillipo con un punto c'è un ponte dove passavano le macchine e in cima a questa isola che era un ex vulcano e c'era il un carcere un carcere per minorile per i minori per i giovani e che ci sarà sempre stato e quindi dell'accademia aeronautica era una dependent di questo carcere ai tempi dei tempi immemorabili aveva era anche bruttina anche vecchiotta così però ormai l'avevo scelta e vado a fare sto coso sto sto periodo di due mesi mi pare in cui venivamo esaminati per vedere se avevamo la stoffa per concorrere e li si conoscono ragazzi di tutta l'età di nole tra no di tutte le di tutte le regioni di tutte e si fa amicizia incomincia aprire un po le tue le tue orientamenti e insomma dopo due mesi da mesi ti danno da fare dei compiti di matematica all'italiano il problema non mi ricordo più cosa fosse verrà dei check dei test che non sono quelli abc di adesso sono quelli già farlo sta roba scriverla e io più o meno avevo le basi per scrivere in maniera decente lì si sentiva che alcuni non erano proprio erano molto regionali perché siamo nel sono andato a questo avveniva nel 43 poi sono usciti nel 55 e 53 e quindi c'erano ancora queste questi queste frange un po così non tanto ortodosse il fatto di italianità ortodossa e quindi insomma alla fine viene fuori che si fanno gli esami appello e siamo nel cortile e leggono i nomi i 77 i primi 77 arruolati secondi no e gli altri di lì poi no e io ero fra i 77 tutto bello contento e andiamo su e io rispettavo che mi dessero il corredo volevi pantaloni da cavallerizzo e tutta la partita da lì ancora non si parlava del cavallerizzo del cavallo vado su e mi danno il mio pacchetto mi guardano c'era lì uno diceva sto qui italia il diceva e si parla di là un naviere che prendeva le robe da uno scaffale meteo listo pacco il tuo mi ha dato la matricola 148 e va bene mi danza roba i pantaloni da cavallerizzo non c'era dico ma qui manca un pezzo sicuro perché il padre ma quelle signori quelle da dieci anni che non vengono dati e io sono da me è caduto un mito perché mi ero perso la marina per questa dimenticanza della cancellazione sul libretto insomma sono rimasto molto male e comunque sono stato arruolato mi hanno messo la sola divisa e mi hanno messo in galera praticamente non il stesso giorno perché non c'era la ragione ma da allora io ho vissuto praticamente i miei tre anni da che deve sono stato anche capocorso per cui non ero l'ultimo arrivato però ero sempre in galera perché ma perché l'accademia a una specifica tutte le cadevi sono così devono essere così a una specifica caratteristica uno ti deve rompere l'equilibrio del borghese tu devi diventare militare c'è uno che risponde sì agli ordini è così perché poi il militare può diventare quando diventa molto evoluto gli ordini li da lui vero ma ce ne vuole ancora ma deve derivare a essere evoluto e opportuno conforme a quello che gli è richiesto dall'arma dove sta dove sta dove è arruolato e io non c'era corre un allievazzo di niente il pinguine il primo il primo corso erano i pinguini che sono uccelli che però non sanno volare e quindi sono i pinguini il secondo anno sono gli anziani e il terzo anno sono gli aspiranti hanno un'altra divisa più in ordine più vicino a quella definitiva dell'ufficiale anzi quella dell'ufficiale con dei gradi particolari e insomma questa accademia a me piaceva perché tutto sommato mi faceva mi facevano il biegno di ingegneria o il professore dell'università di napoli quindi il mio desiderio di rimanere in mezzo ai numeri era assolto e poi c'era questa cosa ogni tanto passavano passavano le pattuglie della quarto storm che era a napoli con i vampire vampire un aeroplano con due code dietro un bel caccia inglese e passavano intanto darci quel piccolo fremito di farci capire che eravamo in aeronautica io ero sempre punito quindi ero sempre in galera perché dovevano rompermi le ossa e me l'hanno rotte per bene perché o per o per convinzione o per acquiescenza si è diventati bravi a obbedire agli ordini quali che fossero gli ordini e questo ho capito dopo che è assolutamente un assoluto must per il militare perché se il militare ricevuto un ordine lo discude e decide se gli sta bene o gli sta male non è più militare cioè il capo che ha a disposizione x persone per fare un certo compito non ce l'ha più se devono decidere loro se farlo no cioè diventano incongruenza quindi questo faceva parte del gioco e ancora ne sono convinto e mi è di 77 persone se ne siamo usciti poi in 48 per cui per cui c'è stata una grande falcidie è morto uno solo quindi di incidente per cui gli altri sono caduti perché dovevano cadere non andavano bene per quella bisogna lì ecco ed è stata una bella scuola perché perché c'era tanti c'era tanto alcuna componente sportiva una componente di amici di fratellanza di fratellanza che una cosa che al liceo non apprezzi molto si fa i giochi sportivi ma insomma copi il greco da quella cui darai l'equazione di matematica quando ci sarà il come ma è un'altra fratellanza lì si è sempre insieme e si diventa uno ora uno del corso nibbio i cosiddetti di biotti si chiamavamo così è un fratello fine per sempre come si può dire è un fratello di carne perché alla sua moglie quelli che saranno i suoi figli io li ho con gli conosciuti tutti alle cene che facciamo nei stormi dove abbiamo e siamo siamo diventati un blocco uno una persona unica e questo è assolutamente struggente nella vita io non so se ci sono altre 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 carriere che possano cementare così la gente noi eravamo veramente un pezzo solo ma non il mio corso nibbio ma è così tutti gli altri in ordine alfabetico l'aquila borea centauro giù fino allo zodiaco che l'ultimo quindi è così è una grande famiglia e quando ne more e ne sono morti nel mio corso avevamo poi avremo forse di dirlo parlarne dopo ma era un modo di imparare a volare bizzarro questo qui era era non andava bene tanto è vero che poi abbiamo imparato un altro modo insegnato dagli americani che avevano altri altri problemi da risolvere e ne sono morti il 20 per cento 20 25 per cento nei primi due anni di operazioni per incidenti anche stupidi perché non perché era così e quindi queste morti ci hanno veramente il primo che c'è morto è stato il povero silo silvano curi che è andato a lecce alla scuola uscito dall'accademia sottotenente nato a lecce e si è lanciato c'è qualcosa è successo nel suo aeroplano non lo ricordo più credo che fosse in vita era un vecchio ti sei che un aeroplano un po un baraccone vecchio vecchio di generazioni allora si volava con quello che c'era e rimasto si è lanciato ha tirato la leva del paracadute quello lì era a mano e si è l'ha tirata troppo presto perché ha sbagliato lui ma comunque si è impigliata la calotta nella coda del t6 e l'ha trascinato fino a terra morte brutta perché l'ha vissuta fino a quando si è spattasciato per terra col suo t6 che l'ha tirato dietro ma così ci sono stati altri che sfasciato l'aroplano in decollo ce ne sono stati tanti altri ma sono sempre stati dei fratelli che hanno colpito le cui morti o la cui disgrazia o grazie di famiglia ha colpito veramente tutti nel profondo è stata un'esperienza eccezionale la mia e poi basta sono uscito dall'accademia e sono e quel punto lì col punto lì avevano deciso di mandarci la nato ha deciso di mandarci già da due anni l'avevano fatto con due corsi precedenti le avevano mandati addestrarsi all'estero in america e altre altri in canada per per imparare la lingua per imparare era nata la nato si si volava insieme cioè era era una forza armata sovranazionale quindi bisognava per forza parlare la lingua ma soprattutto fare le stesse cose cioè a quella parola doveva rispondere un'azione uguale per tutti e l'unica maniera era mescolarci da subito si è detto dell'accademia che ci ha formato in una certa maniera questa maniera non era il la formazione che avremmo trovato in america per noi che ci siamo andate la maggior parte di noi c'è stata e e quindi e ci ha trovato in una situazione a parte la lingua che evidentemente c'era stata insegnata in maniera molto molto così superficiale ci siamo trovati proprio disorganizzati di fronte alla filosofia militare degli americani noi come avevo detto noi in accademia abbiamo avuto una educazione dicevo che ero sempre in galera è vero perché era il modo di romperci le ossa per renderci malleabili per renderci disponibili ad ottemperare all'ordine ragionevole evidentemente quando e come ci fosse arrivato questa cosa che valida dappertutto anche in america evidentemente è insita nella cultura militare cioè impensabile che un capo da una disposizione ragionata e concordata e avallata da chi di dovere senza essere sicuro di quanti sotto di lui l'appoggino non ha senso perché se il soldato non può non appoggiarla perché è un ordine fine e quindi quello si porta avanti e questo questo modo di di costruirci eravamo tutte persone in accademia del mio corso e anche tutti gli altri eravamo persone abbastanza evolute cioè non eravamo dei 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 poverelli pervenuti chissà da dove che si potevano frantumare in questa maniera era difficile frantumare ma era aveva dei sistemi che funzionavano il fatto della galera la galera era la punizione che ti impediva di uscire e di svolgere le pratiche normali e ed era terribile perché da una parte c'era il sonno il sonno era limitatissimo era il minimo necessario per sopravvivere e e anche questo è una caratteristica che buon militare deve avere deve rispondere bene alla fatica perché sarà presto chiamato a rispondere bene alla fatica e quindi quando uno andava in galera queste celle piazzate lassù erano 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 delle celle nude assolutamente piccolissime come un piccolo bagno squadrato con un tavolaccio pendolo che pendeva un asse di legno che pendeva dalla dal muro e su cui si dormiva si ci sarebbe dormito poi quando veniva l'ora del sonno e quando quando il maresciallo veniva e ti dava i ritti i due bastoni da mettere sotto questo tavolaccio che mettevi solo uno di qua e un di là il tenerlo orizzontale perché se no non ci potevi dormire punto e quindi lo davano una certa ora in un certo modo e tu vedi tu dormivi a comando e basta questa è ma questo era uno dei particolari dovevi studiare perché poi tu uscivi se non era cella di rigore ma la serie di rigore era una posizione più grave quindi era ti torceva le budella perché non riuscivi neanche a dormire perché la cella normale ti davano queste cose qua non ti davano le coperte avevi due coperte due coperte quelle militari grigine l'abbiamo viste tutte in un modo o nell'altro forse all'ospizio dei poveri si vedevano quelle tabelle non lo so comunque erano quelle di quel panno forse un po cotto un po non lo so ti davano due di queste e tu avevi la scelta fra coprirti e ripararti dal freddo perché rivestito in divisa e ben divisa da casa e basta oppure essere ammorbidito fra te e il tavolaccio che non sei solito dormire su un tavolaccio duro che poi non dorme il giorno dopo si era incretinito se il professor cennamo ti chiama alla lavagna a fare una dimostrazione di un teorema tu prendi due anziché venti che era al massimo dei voti il nostro 30 era 20 in accademia e non lo prendevi e quindi andavi andavi poi a essere rimandato insomma tutta una serie di cose bene dove scegliere normalmente si sceglieva una la facevi a soffietto prendevi questa coperta che era larga così quanto quanto è largo il tavolaccio la piegava in due e la faceva la riccia vi la facevi così a montagna su e giù a zig zag non la facevi tanto avevi tempo era in galera e la battevi in tutta lunga da lunga com'era ti diventava lunga come si arriva da qui fino alle spalle e ti faceva da materasso quella roba lì e l'altra te la mettevi sopra sempre piegata in due vestito in divisa non avevi altri indumenti tra la mettevi addosso e speravi che passasse per sperare aspettare che passasse la notte e passava perché lì talmente stanco e talmente male in arrese che era passare ecco e questa roba era quotidiana cioè bastava fare un'infrazione anche modesta e o una una come si dice una una punizione di non libera uscita cioè di di consegna ecco quando si veniva consegnati si saltavano noi andiamo in libera uscita liberi per napoli per mi pare due ore si si riusciva a stento a vedere un film due ore di libera uscita portati col pullman e ripresi col pullman due volte la se due volte la settimana se due volte la settimana se a meno di punizioni perché c'era una punizione lei consegnato una la saltare e prima della fine settimana saltare anche l'altra per questo vuol dire star sempre dentro e spessissimo in galera ma questa galera aveva questa a volte era 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 cattiva perché ti incideva sulla salute non sulla salute no sulla salute mai sul cibo sul nodo però sulla voglia sulla sulla salute mentale ecco questa queste cose erano erano delle pene molto 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 importanti e e quindi le sopportavamo con difficoltà ci faceva fare anche molto sport i giri di costa ogni volta che il corso faceva arrivava con non so faceva rumore in in aula mentre aspettava l'arrivo del professore che non arrivava passava uno scelto o un ufficiale che sentiva un rumore che è chi è in in comando comando no chi è il più anziano chi è il più anziano chi era il più anziano era un capocorso il vice o qualcuno che era sempre in responsabilità di quel gruppo diceva io sono più anziano bene lei avrà due turni di consegna e vuol dire saltare una settimana perché gli altri magari si dicevano come fare il compito dopo era proprio delle cose fatte apposta e che io ritengo studiate e anche giuste forse per per condizionarti certo all'ordine che diceva tu in aula devi stare zitto anche se non c'è nessuno devi stare zitto e non devi aprire bocca e era un ordine stupido ovvio che è stupido però da 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 le stringhe delle scarpe famose quando si riusciva a dare in in licenza in libero uscito una volta a vedere un film una cosa una morosa nessuno è riuscito a tenersi in amorosa più di tre volte perché poi lì sia ecco perché poi c'era tutta la fase la parte diciamo come si dice fuori verso 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 napoli napoli è una città esigente una città di gente di un'aristocrazia che ci tiene che ci tiene all'accademia che vuole essere invitata che deve essere invitata c'è tutto una un gioco di questo genere in cui l'allievo non c'entra niente semplicemente la merce di scambio e la merce che che consente di fare le feste ne facevamo tante la festa del pingue di ogni corso la festa di tutte le varie feste se ne facevano col ballo io il mio corso non l'ha più fatta ma fino al corsi prima di me e insegnava insegnavano il ballo perché non bisognava fare brutta figura con la noblesse di napoli che veniva balla che veniva le feste e era così l'accademia e la marina faceva uguale non cambiava niente bene queste queste questa dicotomia no fra una 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 un'accademia sgargiante e con queste belle divise gli spadini la gente che andava in giro e che si faceva belli tutti sempre ben pettinate tutti in ordine e allo stesso tempo angariati da queste cose apparentemente stupide erano secondo me delle docce delle docce fredde e calde necessarie perché alla fine alla fine secondo me sono serviti io avevo un carattere assolutamente ribelle in genere come 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 mia costituzione di dna però quella roba lì ti ha reso più maleabile poi col tempo te ne rendi conto che era solo una cosa superficiale che incideva sul sul vento però era necessaria questo esercizio queste docce fredde calde di questo genere e io ricordo per esempio delle stavo dicendo delle libera uscita stento si riusciva io personalmente ma anche gli altri nelle stesse condizioni forse c'erano i pecoroni che erano sempre li consideravamo però dei vici di dei opportunisti tu devi mantenere un po il tuo carattere anche se ti viene penalizzato e poi quando vai a leggere le notte caratteristiche io le ho tutte come le mie notte caratteristiche i miei voti che i miei esami e le valutazioni e le votazioni venivano date ogni ogni trimestre mi pare le note caratteristiche lo dicevano che a carattere che a personalità che a cosa però ti ha bastonato come una bestia tutto il tempo e questo e questo è una c'è una consecuzione una parentela fra le due cose che io rispetto anche se il mio carattere ribelle mi porterebbe a discutere queste cose invece penso che siano giuste stavo dicendo quando si andava il libro uscita dopo dopo due mesi che non riusciva a vedere un film perché le uscite erano due ore a napoli e insegnavano come ti dovevi vestire le stringhe le mie ancora adesso alla mia età di 87 anni e ho le stringhe orizzontali perché le stringhe si uscì poteva uscire solo se avevano le stringhe orizzontali punto e quando passavano eri lì triplice fila quelli che erano autorizzate uscire i puniti non venivano all'ispezione della libera uscita no li schierati e c'era lo scelto cioè l'allievo più 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 alto in responsabilità gli avevano dato la responsabilità del corso e l'ufficiale che venivano a vederti le stringhe e se tu avevi la stringa così che a volte succede quando uno sarà facca pocchia e se allievo lei sa come si mettono le stringhe sì signore e lei non ce le ha così lei adesso torna dentro e si mette in divisa da casa e non uscivi più e aspettavi altri tre mesi per forse la possibilità di uscire a napoli dove avevi morose da tutte le parti perché tutte le mamme di cuore di napoli volevano far sposare le loro pupe ai ai cadetti dell'aeronautica e noi abbiamo e non li pronunceremo mai di fronte di fronte alla alle registrazioni i nomi di questi belloni che hanno falciato e mietuto a napoli a a man bassa sono nomi importanti che sono stati conosciuti anche nel mondo politico e nel mondo militare alto locato e hanno tutta la mia simpatia perché riuscivano a fare le cose in maniera di venirne fuori insomma ecco grazie a tutti